Salve amici del Centrometto Italiano, correnti umide e tempo instabile per diversi giorni. Vediamo allora l'evoluzione fino all'ultimo weekend di ottobre. Situazione sinottica che vede un anticiclone disteso tra Atlantico ed Europa orientale, mentre sul Nord Africa è ancora presente una goccia d'aria fredda in quota. Alta pressione con massimi al suolo sull'Europa centrale nei prossimi giorni, ma con correnti umide in quota sul Mediterraneo centrale che porteranno ancora molte nuvole e piogge. Poche variazioni fino all'inizio dell'ultimo weekend del mese, quando una saccatura depressionaria sulla penisola iberica potrebbe portare ancora mal tempo, soprattutto al nord-ovest. Maggiore instabilità a seguire anche se il cuore dell'alta pressione resterà defilato verso il vicino Atlantico. Data l'incertezza, seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometto Italiano.